Il concetto di Maestri del Rococo, organizzato da Opera in concerto in Italy, gli interpreti sono dei ragazzi che studiano all'Università di Dallas e che fanno un periodo di residenza in Italia per migliorare la loro conoscenza della lingua italiana, essendo la lingua italiana per nostra fortuna la lingua principale dell'opera. Sto ottenendo un programma piuttosto ricco quest'oggi, avete abbondantemente programmi di sala, quindi non mi di lungo leggendovi i titoli dei brani. L'unica cosa che volevo sottolineare sono anche gli insegnanti del Rococo, il Paestro Edward Kraft, e il pianista è Steven W. Eteros è l'altra insegnante. Ecco, come amici della musica, vi ringraziamo per la presenza, vi ricordiamo per coloro che non fossero ancora soci, che è sempre possibile tesserarsi nella nostra associazione in modo da avere una partecipazione ancora più attiva alla vicia culturale della città ed essere sempre informati in prima battuta su quelli che sono i progetti, i concerti, le varie attività che andiamo a mettere in campo. E tra quelle prossime mi piace ricordare che il nostro Centro Studi Musicali avrà allestilati i campi per gli studenti delle scuole, che abbia stili in modo che potranno utilizzare il tempo delle vacanze per avvicinarsi o continuare a coltivare la passione per la musica. e dal punto di vista concertistico ci rivedremo qui, al Auditorium Santa Chiara, il 10 di luglio, per ascoltare il duo Orlando Braconi e Alessandro Carbonari. A questo punto penso che posso dare via agli artisti e vi accoglierei davvero ora con un applauso per quest'anno di cominciare. Prego. Grazie. 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 Qui, se ci permettete, vogliamo inserire un'altra area di Bozza, altra area delle noce di Figaro. e la bella aria di Susana dal quarto alto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. E la bella aria di Susana dal quarto del Vieni non tardi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Abbiamo cantato la prima selezione nel latino, un linguaggio morto. Quest'ultima selezione l'hanno cantato in un linguaggio molto vivente, il linguaggio dei gatti. Ma tutte le altre cose che abbiamo cantato per voi sono in italiano. E veramente veniamo qui con gran amore e con grande rispetto e vi ringraziamo poter compartire con voi lo italiano. La musica italiana è fatta un gran piacere per noi. La musica italiana, la cultura italiana, la lingua italiana, il cibo italiano, il vino italiano. Gran piacere per noi. Ed ora, adesso, finisciamo con questo, questo gran himno del Maestro Verdi, Va Pensiero, che è per noi veramente una gran gioia di sentire che anche in nostra piccola maniera possiamo compartire con voi questo che è di essere italiano. Grazie. 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 Grazie agli amici della musica del Morco San Secoltro. Mildegrazie. Grazie. Grazie.